eccoci sentite buonasera 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 a tutti benvenuti in questo webinar dove parleremo come la uax la ui può migliorare la conversione delle vostre landing ringraziamo ovviamente vuos in ubenda e partiamo subito con con il webinar vedo che sono ci sono già diverse persone collegate e allora scrivete pure ecco qua vedo già i primi buonasera buonasera a tutti ciao perfetto si sente bene datemi un po di feedback sulla connessione su se vedete bene tutta la regia allora partirei subito con la presentazione e quindi andiamo a condividere le slide voi ovviamente qualsiasi cosa vi viene in mente durante il webinar scrivetelo pure fra i commenti che così se ci sono diciamo qualche commento lo andiamo a mettere in sovraimpressione la regia mi aiuterà a mettere anche qualcosa in sovraimpressione e andiamo a rispondere a tutti allora come sarà strutturato questo webinar durerà 45 minuti facciamo un po il punto su con una serie di slide ci aiuteremo per parlarvi ovviamente di metodologia e di tips da affrontare sulla landing page e poi faremo un 15 minuti di q&a allora partiamo con questo sharing ok allora anche qua datemi feedback si dovrebbe vedere tutto perfettamente allora iniziamo pure con con la presentazione come avete letto dal dal titolo parleremo di ui e uax due tematiche sempre molto importante nel mondo nel mondo digitale nel mondo web ma qui nello specifico le andremo a vedere come poter applicare come poter usare alcune tecniche alcune best practice proprio all'interno delle landing page quindi sarà un webinar molto pratico toccheremo veramente dei punti importanti non possiamo toccare ovviamente tutti gli argomenti legati a queste a queste tematiche però ci andremo a concentrare proprio nello specifico sulle landing page partiamo innanzitutto con le presentazioni allora io sono maurizio cascio sono un imprenditore sono creative e design director di on lab nonché CEO e founder e ho fondato la mia prima società a vent'anni lavoro proprio fin dall'inizio sempre nel mondo della consulenza e del digital della comunicazione e grazie alle alle aziende adesso aiuto imprenditori freelance e brand a migliorare la propria design experience oggi che cosa vedremo durante questo webinar un po l'abbiamo anticipato ma andiamo a capire per punti che cosa andremo ad analizzare cosa andremo a vedere allora partiamo col dire che cosa sono la UX e la UI e perché sono importanti per una landing page poi vedremo delle fasi fondamentali di un di un metodo metodo comunque che applichiamo noi nella UX UI e inserite all'interno di queste fasi delle tips pratiche per le landing page allora partiamo col dire come rispondere a questa domanda che cosa sono la UX e la UI allora la UX e la UI sono diciamo trattano degli argomenti davvero molto molto ampi che non basterebbero davvero dieci webinar per entrare nel dettaglio di ogni argomento qua vedete riassunte quelle che possono essere delle macro tematiche che si possono toccare in ogni aspetto possiamo dire che innanzitutto sono due acronimi sono per user experience la UX sta per experience e user interface la user experience si basa principalmente vedete ce ne sono tanti quindi noi andiamo adesso a toccare solamente dei punti che ci possono interessare in maniera molto pratica per le landing page ma ecco la user experience basandosi sull'esperienza dell'utente che arriva a toccare no la nostra il nostro prodotto in questo caso prodotto digitale andiamo a curare i diversi aspetti che possono essere psicologici emotivi e strategici legati proprio al prodotto digitale invece nella user interface andiamo a toccare quello che è l'interfaccia uomo macchina quindi tutta la parte più legata al visual design design system e altro però ecco il webinar non sarà centrato su scendere nella parte più che altro diciamo teorica o pratica dei due macro argomenti ma andiamo a vedere proprio delle attività puramente diciamo pratiche e specifiche allora perché però dobbiamo parlare di user experience di user interface perché sono importanti per una landing page che poi ecco landing page ovviamente un parolone una pagina di atterraggio una pagina che che ha un obiettivo ma capiamo perché in maniera strutturale utilizzare un metodo è importante le nostre landing page non scaricare un template e pubblicarlo perché una buona user experience una buona user interface migliorano appunto l'esperienza di contatto della brand migliorando l'esperienza noi abbiamo una percezione di quella di quella brand sicuramente più alta l'altro punto fondamentale che aiutano a raggiungere l'obiettivo di conversione quindi questi vedete sarà molto rassuntivo solamente su questi due punti perché ti permettono di capire perché devo ovviamente sforzarmi a capire come migliorare l'esperienza e ovviamente raggiungere l'obiettivo di conversione che una landing page deve avere ma appunto partiamo partiamo con la ciccia partiamo ovviamente con il contenuto allora let's start quali sono le fasi fondamentali del metodo della ivax del metodo adesso vi faccio capire cosa noi facciamo per applicare un processo metodologico prendiamo in presidio il processo che si chiama più ampio di design thinking che è un processo legato a una struttura progettuale metodologica applicabile in diverse fasi in diversi settori sicuramente nella nell'aspetto del digital design e dell'experience dell'experience design è una tematica sicuramente centrale e che cos'è il design thinking fondamentalmente è una struttura metodologica che ci permette di andare a lavorare secondo proprio delle fasi così non perdiamo mai nessun punto e andare a lavorare passando appunto per questi cinque fasi più uno che noi poi andiamo a descrivere in reiterare tutto ma andiamola a vedere nello specifico ve la leggo prima poi capiamo cosa andiamo a prendere all'interno il punto numero uno è empatizzare il punto numero due definire tre progettare poi continuiamo con il prototipare e andiamo sul testare ovviamente reiterare tutto mi farò capire che cosa intendiamo perché parliamo di un processo metodologico no potremmo dire che mauri però facci vedere una landing page andiamo su qualcosa vediamo perché mettere quel pulsante di qua di là è un processo in realtà che arriva verso la fine un processo visuale un processo anche di composizione delle landing page non vi parlerò di elemento non vi parlerò di web flow non vi parlerò di strumenti ma quello che vi parlerò vi cercherò di dare dei tips dei consigli che potete applicare su qualsiasi strumento che potete applicare su qualsiasi landing page perché sono delle euristiche sono probabilmente dei dei concetti sempre veri e sono delle delle strutture base che mi permettono di dare uno schema e una struttura quindi un metodo è sempre molto più importante di dare un prodotto ecco già finito e il metodo inizia proprio con l'empatizzare giustamente dite è ok ma è un prodotto digitale come faccio a empatizzare con prodotti digitale e no perché ricordatevi che dietro a un prodotto digitale ci sono sempre delle persone ci sono sempre quelle che vengono chiamate in gergo tecnico users personas e che cosa sono quelle che una volta venivano chiamate target cioè qual è il nostro qual è il nostro interlocutore qual è la nostra audience sia trasformato da target tradotto letteralmente obiettivo in persona perché è vero che noi dobbiamo arrivare a loro ma non è solamente il nostro obiettivo noi abbiamo delle persone dall'altra parte del del monitor e in pratica noi dobbiamo parlare a queste persone quindi dobbiamo immaginare e dobbiamo ovviamente ascoltare vedo che qualcuno scrive ecco ma sempre teoria e la pratica partiamo dalla pratica sono vado a scuola ecco franco esposito il discorso è questo che se vuoi ovviamente qualcosa di veramente pratico ascolta questo perché praticamente vedrai quelle che ci sono delle soluzioni altrimenti scarichiamo i template e facciamo la fabbrica dei template e noi non vogliamo fare la fabbrica template vogliamo raggiungere un obiettivo se vogliamo far scaricare un prodotto vogliamo avere un link vogliamo avere per esempio un email avere dei lead o far comprare nostro prodotto dobbiamo conoscere come portare il risultato a casa nostra quindi è una struttura sicuramente metodologica ma è molto pratica come riconoscere le tue persone se lo facciamo facendo delle interviste facendo raccogliendo dati raccogliendo quello che sono i dati che abbiamo già al nostro possesso e quindi andiamo a immaginare andiamo non solo immaginiamo andiamo proprio a conoscere quelle che sono le persone che sono all'interno che sono dietro al prodotto perché fare questa cosa perché dobbiamo ascoltarli dobbiamo ascoltare quale sono i loro pensieri dobbiamo ascoltare che cosa pensano dobbiamo dobbiamo immaginare che dialoghiamo sempre con una persona dall'altra parte e non è solamente un mondo quindi cosa facciamo se noi dialoghiamo per esempio con dei bambini utilizziamo un tipo di linguaggio se dialoghiamo con degli ingegneri ne utilizziamo magari un altro se dialoghiamo con non so dei clown ne utilizziamo un altro quindi mettersi nei panni quindi empatizzare con chi abbiamo di fronte è il punto fondamentale quindi ricordatevi che parliamo a delle persone ascoltare i suoi pensieri è il modo per dire sicuramente dobbiamo arrivare a capire che cosa loro pensano poi andiamo praticamente a capire e osservare soprattutto quali sono i comportamenti ecco quali sono delle tecniche avanzate per osservare i comportamenti sicuramente andiamo a lavorare con quelle che sono delle heat map utilizzare degli strumenti di analisi di analitica quindi sicuramente possiamo installare quelle che sono google analytics hot jar andiamo analizzare quelle che sono sicuramente delle pratiche di comportamento degli utenti andiamo a capire loro dov'è che vedranno la nostra landing page maggiormente sicuramente quello che passerà per la l'osservazione ovviamente contenuti e la raccolta dei dati quindi questa è un'altra un'altra cosa molto importante prima di andare a progettare disegnare o altro noi dobbiamo raccogliere i dati per poterli poi ovviamente osservare e portare nella nel nel progetto quindi per empatizzare per metterci ovviamente nei panni del nostro utente dobbiamo ovviamente andare a riconoscere la la persona che abbiamo di fronte ascoltare quali sono i pensieri osservare sui comportamenti e raccogliere i dati quindi come facciamo se noi abbiamo già una base dati e abbiamo già una landing prodotta dobbiamo analizzare ovviamente i dati raccolti su quella landing se è la prima volta che osserviamo un tipo di processo cioè se è la prima volta che lavoriamo su questo tipo di landing dobbiamo andare a raccogliere quelle che sono le pratiche migliori e immaginarci quali sono le users personas su che app passano il loro tempo se lavorano principalmente su mobile o se lavorano su desk se io faccio un ads per esempio su mobile questa è una tematica che vedremo ma ci tengo molto a descriverla io faccio delle ads per esempio su facebook e su instagram e tra l'altro magari lavoro proprio su delle stories che si vedono solo su una piattaforma mobile vado a fare lo swipe up su una su una stories e il sito internet è progettato ottimizzato per desk e ovviamente non ho ascoltato non ho osservato chi sono i miei utenti non ho pensato a loro e soprattutto non ho pensato a che cosa stavo facendo perché un ads ovviamente su una stories vederà vista su un prodotto mobile su una landing page mobile quindi progettiamo prima di tutto il mobile e siamo sicuramente concreti e arriviamo subito diretti allo scopo quindi dobbiamo capire loro cosa vedono cosa ascoltano e su che cosa su che campo di gioco si muovono andiamo praticamente a vedere quelli che sono gli altri step allora cosa sono gli altri step sicuramente dobbiamo passare per la definizione allora che cos'è definire cosa intendiamo per definire ovviamente la il nostro processo ecco la definizione è una cosa molto importante noi dobbiamo andare a capire quali sono i problemi le paure vedete molto simile a empatizzare ma qua andiamo a mettere nero su bianco quelle che sono le paure e i problemi perché potendo identificare le paure e i problemi noi capiamo anche quali sono le soluzioni da adottare con con le persone come lo facciamo lo facciamo praticamente con dei canvas è uno dei canvas uno dei praticamente degli strumenti che si utilizzano per arrivare a identificare problemi e pauri e paure e user center design canvas ucdc alla fine di tutto quanto il webinar vi darò proprio dei modelli che potete scaricare li potete usare in pratica questo canvas è un canvas composto da nove blocchi e voi poi ci sono delle descrizioni di come poterlo utilizzare questo canvas andate a fare questo questo workshop insieme alle persone legate al progetto andate a rispondere a quelle che sono le domande che ho trovato all'interno di questo canvas vedete che sarà molto utile perché vi porterà a capire tante cose come appunto i problemi le paure ma anche le motivazioni e le soluzioni che vogliamo porre a questi a questi clienti e vedete che ci sono lì potremmo andare a toccare quelle che sono feedur quelle che possono essere ovviamente anche diciamo proprio elementi di ui da portare all'interno della del progetto vediamo il prossimo step della definizione focalizzati su una sola conversion goal che cos'è concentrati solo su un obiettivo di conversione è inutile praticamente andare a pensare io voglio avere mille obiettivi su questa landing page e non ne partiamo a casa e facciamo davvero tanto rumore invece qua ci devo concentrare solamente su un obiettivo di conversione io voglio fare lead generation vado a fare lead generation quindi mi concentro su andare a prendere quel contatto voglio far scaricare un pdf materiale vado a far scaricare un pdf materiale quindi dobbiamo subito definire qual è il nostro obiettivo di conversione e focalizzarci solo su quello e vedere quello che sono degli esempi spesso quando vediamo delle landing noi vediamo subito quello che è una call to action che punta all'obiettivo di conversione dobbiamo identificarla e andarla a portare alla all'interno del nostro progetto di definizione andiamo a capire qual è il campo di gioco ve l'ho introdotto prima quando abbiamo parlato del dispositivo ricordiamoci loro dove vedranno la nostra landing page questo lo possiamo fare con diverse analitiche lo possiamo fare ce lo dice stesso google analytics ci dice quale dispositivo stiamo utilizzando ce lo dicono mille strumenti di analisi se noi vediamo l'ottanta per cento di navigazione che arriva da alcuni dispositivi concentriamoci su quei dispositivi quindi andiamo a lavorare sullo stesso campo di gioco e non su altri e quindi quando andate a lavorare su un titolo internet magari vabbè ma su desktop si vede comunque più bello su mobile andiamo a togliere e no non andiamo a togliere su mobile se magari lo strumento principale è il mobile quindi lavoriamo un medio sul mobile first mobile e poi su desk ci arriviamo magari in un secondo step definiamo la personalità comunicativa e contenutistica un'altra cosa importante è andare a definire qual è la personalità comunicativa ma soprattutto la coerenza comunicativa non possiamo andare a immaginare una per esempio fatta su ecco su qualsiasi social network ma anche magari su google e quando vado poi a cliccare dentro questa atterro su una landing page che non è coerente visivamente per esempio l'az è tutto non solo rossa con alcuni testi con alcune foto clicco all'interno mi trovo su una landing page completamente diversa dobbiamo lavorare su un approfondimento di contenuti questo tipo di argomento è molto importante perché come se voi quando fate fate un ads dovete immaginarvi che quella è la vetrina del nostro negozio quindi quando io entro all'interno del negozio quindi quando atterro sulla landing page dovete sicuramente andare a ribadire quello che hanno visto fuori e dare sicuramente più specifiche ricordandovi della call to action cioè dobbiamo andare a confermare la promessa che abbiamo fatto all'esterno quindi coerenza visiva e coerenza comunicativa quando parliamo di personalità e quindi vedete che noi abbiamo scritto personalità comunicativa anche lì il taglio comunicativo del testo e delle per esempio delle immagini deve essere lo stesso se sono stato simpatico nell'ads anche nella headline continui con quel carattere poi ovvio nell'ads magari avrò un taglio ecco leggermente più pubblicitario però ricordiamoci che anche la landing deve riportare quello stile comunicativo andiamo a toccare un altro punto interessante sicuramente molti di voi conosceranno quelli che sono i sei principi di cialdini le armi le armi delle persuasione di robert cialdini è un libro famosissimo poi nel corso del tempo nel 2014 se ne è giunta ancora un'altra quindi sono diventate sei più una però ecco principalmente si parla di persuasione comunicativa e perché utilizzare l'interno di una landing page è perché la landing page è uno strumento assolutamente comunicativo è uno strumento che deve lavorare molto sulla persuasione per arrivare all'obiettivo quindi conoscere quelli che sono i suoi principi e applicarli all'interno di questo impianto comunicativo della landing page è sicuramente qualcosa di importante qui però non vi voglio parlare di tutte e sei ma ve ne parlerò principalmente di due le due che sono principalmente utilizzate all'interno della landing page che magari qualcuno se ne dimentica però è importante andarle a strutturare all'interno della nostra pagina infatti abbiamo messo nell'area di definizione cioè noi dobbiamo definire sia la parte contenutistica di copy di immagini e di visual di queste due cosa intendiamo per scarsità la scarsità e sono tutti quegli elementi visivi che ti portano a innescare quella che viene chiamata anche fomo cioè la paura di perdere ovviamente qualcosa la paura di perdere un'occasione allora lo vediamo per esempio sicuramente la troviamo su booking.com troviamo una scarsità per esempio mancano pochi posti solo per un limitato periodo di tempo però ecco ricordatevi c'è da fare una postiglia sulla scarsità che sia vera scarsità perché ricordatevi sempre la promessa che vi fate se è una scarsità temporale che dopo per esempio scade quella promozione fatela scadere se è una scarsità di quantità fateli finire perché poi il gioco della scarsità finta ovviamente poi fa il processo inverso magari io compro vede che non finisce ovviamente ci resta male quindi questo è importante lo fa per esempio anche amazon ci sono solamente due in stock eccetera eccetera cioè comunichiamo un concetto ovviamente di di scarsità l'altro invece è l'idea della riprova sociale la riprova sociale è un'altra arma persuasiva molto importante perché noi siamo fondamentalmente animali sociali noi viviamo all'interno di una società e ci fidiamo del comportamento dei nostri simili del nostro gruppo della nostra cerchia distretta con questo con questa idea con questo concetto con questo chiamiamolo anche bias cognitivo noi ci fidiamo di della recensione di una persona che ha provato quel prodotto prima di noi quindi se si è trovato bene lui sono trovate bene altre mille persone probabilmente mi ci troverò mi troverò bene anch'io quindi questa è un qualcosa che noi vediamo tantissimo su trip advisor su stesso amazon e su tantissimi altri siti anche qua non facciamo delle cose che siano fake cerchiamo ovviamente di portare quelle che sono delle testimonianze se ne abbiamo poche meglio poche che ovviamente nessuna cerchiamo ovviamente di lavorare sempre con dati reali perché poi questa cosa con lungo andare può cioè se è fake ovviamente ci ritorna anche qui contro non esiste solamente il la recensione da parte del del pubblico così come funziona su diversi siti come abbiamo detto trip advisor amazon e anche altri altri siti internet ci sono degli strumenti come per esempio trust pilot che comunque permette di fare su diverse piattaforme ti va anche a certificare quel tipo di testimonianza esistono anche delle testimonianze esiste una riprova sociale anche più più specifica cioè io la riprova sociale la vado ad ottenere non più magari fra il grande pubblico perché magari ecco non ho la possibilità di avere migliaia e migliaia di recensioni ma a quel punto io vado su quelli che sono ovviamente delle potenziali aziende oppure chiamiamoli vip cioè persone di riferimento magari in quel settore quindi se io lancio un software come può essere in questo caso non sbaglio non so se è zoom o comunque un altro sistema di esempio un software e sotto ci sono delle testimonianze magari anche video del direttore marketing di uber non che il cio di zendesk o eccetera eccetera di diverse aziende dico caspita se una persona così specializzata se una persona così chiave all'interno di un'azienda tech mi sponsorizza questo prodotto tecnologico sicuramente è un qualcosa di positivo quindi possiamo lavorare non solo per quantità ma anche per qualità di recensione quindi questa è un'arma persuasiva comunicativa da utilizzare assolutamente all'interno della landing page quindi andiamo a definire quelli che sono i punti importanti del nostro processo del nostro progetto quindi nel definire ricordatevi di identificare i problemi e le paure e alla fine del webinar vi darò anche dei link per scaricare questo modello molto interessante che vi invito poi a studiarlo focalizzati solo su una conversion goal quindi un solo obiettivo di conversione definisci il campo di gioco vedete assolutamente se quel tipo di prodotto quel tipo di landing page verrà visto su mobile su tablet o su desk lavorate ovviamente per grandi numeri lavorate ovviamente per percentuali maggiori non dico di escludere completamente gli altri ma lavoriamo prima sulle percentuali più alte definisci la personalità comunicativa e contenutistica quindi lavorate prima di tutto sulla parte del contenuto definendo a monte qual è la personalità sono più simpatico, sono amichevole, sono più istituzionale eccetera eccetera e cerchiamo di contenere sempre questo coordinamento comunicativo e poi ricordatevi delle armi della persuasione andiamo sul punto numero 3 e progettare ecco arriviamo praticamente nel punto caldo del mezzo progettuale ecco le persone si fionnano sull'aspetto del design, del visual scegliamo da un catalogo qual è il template più bellino virgolettato mettiamolo e proviamo giù ecco magari non si adatta completamente alla nostra personalità, ai nostri valori ma soprattutto non comunica la stessa cosa un template magari per scaricare un pdf o fare lead generation o per esempio per vendere un prodotto X cioè ci sono ovviamente diversi modi di progettare quindi noi arriviamo da quei due punti e arriviamo poi alla progettazione che poi progettazione significa proiettare proiettare in avanti proiettiamo prima il pensiero, il disegno e poi l'azione progettare è importantissimo è come dire vabbè dai iniziamo a costruire un palazzo e iniziamo praticamente a mettere dei mattoni a caso e così costruiamo non so se è un piano, due piani, tre piani non so quante camere da letto non so come finirà inizio a mettere i mattoni e poi vediamo ecco quello non è progettare quindi invece cosa si fa? eh si va a progettare si fanno degli studi tecnici si fanno le fondamenta ecco le fondamenta le abbiamo viste prima nell'empatizzare, nel definire adesso noi stiamo progettando quello che è è tutto quanto la struttura della nostra landing page e da che cosa si inizia? qual è il primo piano? il primo piano ecco secondo me qui possiamo ancora fare una metafora che siamo sulle fondamenta io non posso costruire una landing page se non so cosa metterci all'interno quindi progettiamo prima i contenuti che significa progettare prima i contenuti? e dice vabbè io inizio a fare un po' di pulsanti un po' di cose così e poi ci vado a mettere il testo e molti vanno inserire quello che è il testo segnaposto i lorem ipsum e i template ne sono pieni ma progettare con lorem ipsum non è progettare noi dobbiamo sapere cosa andare a scrivere e poi lo andiamo a impaginare quindi progettate prima i contenuti i contenuti sono contenuti che non sono solo diciamo visivi ma sono anche testuali quindi quando progettiamo prima i contenuti e ribadisco il prima dobbiamo pensare al copy e al micro copy cos'è il copy e cos'è il micro copy i copy sono tutta la parte ovviamente testuale che c'è all'interno della nostra landing page quindi progettiamo i paragrafi quelli che sono i titoli ma progettiamo anche i micro copy che sarebbero tutti quei testi che ci sono per esempio all'interno dei pulsanti in questo caso per esempio della call to action che ci sono per esempio in alcuni titoli di paragrafo sono quei testi che ti permettono di eseguire delle azioni nel campo della user experience nel campo della user interface noi abbiamo per esempio noi lavoriamo su app lavoriamo su portali web su siti che hanno una struttura una sitemap complessa quindi è importantissimo lavorare anche sul menu lavorare su tutti i testi i microtesti dei pulsanti perché è un ecosistema molto più grande ecco noi qui parliamo di una landing page abbiamo detto che c'è una call to action un obiettivo principale e quindi dobbiamo ragionare bene su quel micro copy di quel pulsante ecco magari lungo la landing page ne possiamo provare anche diversi di micro copy però è importante capire come converte andiamo a vedere oltre al copy e al micro copy andiamo a capire che cosa dobbiamo progettare prima progettiamo prima i contenuti anche video le immagini e ricordiamoci qua abbiamo scritto video immagini che raccontano qualcosa video immagini che raccontano qualcosa perché l'abbiamo inserito? diciamo dai mettiamo delle foto mettiamo delle immagini ci tengo a dire questa cosa perché spesso si dice va bene libro di template poi apro a destra sito di stock di immagini e io faccio poi metto una landing page e vediamo quando una persona si trova di fronte a una landing page che utilizza solamente foto stock video stock testi spero che non siano pubblicati come loro in Ipsum ci si rende conto che è un sito di internet un po' fantoccio perché non raccontano nulla le immagini di due che si stringono una mano o della centralista con la cuffia che ride sono immagini che sono vuote ormai quindi dobbiamo raccontare qualcosa dobbiamo raccontare qualcosa con il video e con le immagini per raccontare qualcosa dobbiamo produrle sì, sarebbe ottimo produrre delle foto e dei video ad hoc se non riusciamo a produrle cerchiamo di andare a trovare quelle immagini che sono sicuramente più narrative sono più descrittive sono più emozionali e non la tipica ecco immagine che viene strausata che ormai è diventata davvero vuoto di contenuto passiamo alla fase successiva quando l'abbiamo detto l'abbiamo toccato più volte progetta prima il giusto dispositivo ecco sotto l'abbiamo messi tanti ricordate che non esiste solamente l'iPhone esiste anche l'Android esistono mille risoluzioni quindi quando voi lavorate su una analitica e vedete i dispositivi vedete tanto le risoluzioni perché chi è abituato a disegnare i progetti parte magari subito con il desk perché è più grande, più curioso e tutto ma poi stesso noi viviamo la maggior parte del tempo magari su dispositivi mobile però questo è vero o non è vero per questo vi dico andate sull'analitica ci sono molti progetti web che vengono visti prima su desk e magari successivamente su mobile quindi non è sempre vero first mobile quindi andate a leggere i dati in base ai dati andate a orientare la vostra progettazione quando viene parlato sul vedete che ci sono alcuni argomenti che sono ricorsivi nell'empatizzare nel definire nel progettare perché io lì sto ascoltando quindi io capisco loro cosa fanno da lì definisco quindi vado a chiudere e dire ok questo è il mio strumento nella progettazione dobbiamo ricordarci che abbiamo un ordine di progettazione quindi non dico non pensate all'altro ma pensate a tutti gli strumenti secondo un ordine e come si fa a progettare una giusta interfaccia ecco una tematica molto ampia e qua voglio darvi dei punti che poi se vi interessa l'argomento si vanno ad approfondire sicuramente un'interfaccia deve essere semplice semplice che significa quando notate che ci sono delle cose che sono sono di più sono dei dirigori sono degli ornamenti togliete togliete non abbiate paura di togliere less is more si diceva nel modernismo qui dobbiamo non essere minimalisti e inutilmente ecco togliere essere super semplici semplicistici dobbiamo essere semplici come come struttura cioè dobbiamo essere chiari ecco deve essere comoda cioè l'interfaccia deve essere comoda non deve avere difficoltà a raggiungere quelli che sono alcuni alcuni punti ecco qua vi spiego che significa comodità comodità io devo poter magari raggiungere in maniera semplice la call to action magari non deve essere troppo piccolo il pulsante quindi non riesco magari a toccarlo facciamo sempre l'esempio del mobile se invece è troppo grande è troppo grande io praticamente magari non lo riesco a riconoscere che quello è un pulsante quindi ci sono delle dimensioni precise da dare alle call to action ecco questo è un consiglio molto pratico ci sono delle dimensioni precise per dare ai pulsanti un'altra cosa sempre legata al terzo punto che raggiate qui è l'affordance che cos'è l'affordance è una tematica molto interessante nel concetto della progettazione nel concetto del design ed è quella capacità dell'oggetto di descrivere il suo utilizzo o come lo si utilizza dette in altre parole quando io vedo una maniglia all'altezza della mano che ha quella forma mi invita a prenderla e a usarla una maniglia stessa cosa deve fare il pulsante cioè il pulsante mi deve comunicare io posso essere premuto ok oppure quando aprite uno scatolo e vedete quel taglietto qualche volta prendete uno scatolo vedete c'è una linguetta cosa vi dice quella linguetta tirami e io mi sollevo oppure quel foro io metto il dito nel foro e lo apro quello è l'affordance quindi noi in interfaccia dobbiamo cercare di far capire come si usa ogni elemento quindi i pulsanti devono essere dei pulsanti non devono essere delle forme strane o altro e questo è molto importante per le landing page perché io devo capire dove poter cliccare che cosa succede se vado a cliccare lì eccetera eccetera qual è l'importanza della thank you page l'importanza della thank you page è una cosa essenziale ecco noi siamo sulla landing dopo che ho fatto la call to action non mi dice nulla non ho nessuna azione questa la potremmo riassumere anche come l'importanza di dare un feedback a l'utente ecco la schermata potrebbe essere un po' più ampia cioè noi a ogni azione deve corrispondere a un feedback dobbiamo far capire all'utente se ha avuto successo la sua azione o non è andata a buon fine ok quindi i feedback sono molto importanti in interfaccia è come se io parlo con qualcuno e con qualcuno non mi dà accenno di risposta io non so cosa sta succedendo invece qua l'interfaccia che deve parlare per noi quindi io clicco vado avanti mi deve dare un messaggio di successo o di insuccesso nella thank you page perché è importante perché noi possiamo andare a strutturare la thank you page e tutti gli amici che fanno marketing ci potranno dare una mano su questo è che abbiamo l'opportunità con la thank you page di andare a fare altre cose come per esempio fare un cross sell io ho venduto una cosa ho chiuso una parte e posso andare a vendere qualcos'altro oppure all'entrata nella thank you page ho la possibilità di andare a fare un altro opt-in oppure un'altra iscrizione all'interno di un gruppo facebook di un canale telegram di un bot o di quello che sia thank you page è una opportunità non basta semplicemente grazie ma lì abbiamo l'opportunità di dare un altro messaggio perché siamo in un punto in un picco alto di entusiasmo da parte dell'utente ho fatto quello scopo magari sono stato tre ore a vedere quella landing page o qualche volta anche giorni per capire che cosa c'è una volta che io vado avanti su un momento emozionale che sono arrivato a fare il mio scopo lavoriamo anche sulla thank you page vedete non vediamo solo sulla user interface ma anche sulla user experience l'esperienza continua nella thank you page quindi cosa facciamo noi confermiamo il flusso di navigazione è andato a buon fine non è andato a buon fine fornire altri modi per connettersi all'utente l'abbiamo detto no altri canali di connessione e fare anche upsell o crosssell magari ecco io ho fatto una vendita di un prodotto gli associo già un altro prodotto ma non è solo per la finalità di vendere di più che quella è una finalità ovviamente sana fa parte del market fa parte del commercio ma è anche un modo magari per migliorare l'esperienza perché magari per quella finalità di quel prodotto io poi mi devo andare a chiudere cercare l'altra pagina dove vendete quell'altro prodotto perché va in combinazione no io glielo propongo sotto e magari gli dico guarda tante altre persone hanno compratto anche questo non lo so la chiave inglese per finire di montare quello ecco io miglioro l'esperienza perché non aspetto magari che mi arriva il pacchio e mi rendo conto che mi manca quell'altra cosa io gliela propongo magari già dentro oppure posso proporre dei bundle hai comprato questo hai già una scontistica poi si apre un mondo però ecco ricordatevi la denqpage la denqpage non è grazie chiudi il browser è tanto altro quindi riassumendo vedete sono tematiche molto ampie però abbiamo cercato di portare dei punti solo per la landing page e vi ho portato quei punti dove guardandone tante non ora progettare ci sono sempre spesso delle mancanze che poi possono essere possono sembrare banali ma è meglio ovviamente tenerne conto prima i contenuti vanno progettati rifiutatevi di progettare o disegnare una pagina dove non ci sono i contenuti altrimenti il lavoro lo fate due tre volte poi pensate di mettere un headline magari che è composto da una parola e poi vi ne arrivano magari tre righe di parole perché il copy ha deciso di fare questo quindi prima la parte contenutistica testuale di immagini poi progettate prima il giusto dispositivo e poi ricordatevi l'importanza della tq page prototipare ecco prototipare gli ultimi punti 4 e 5 sono prototipare e testare vanno sempre visti in combinazione no io prima faccio un prototipo lo testo e lo vado a migliorare perché si parla di prototipare e perché non dire vabbè dai facciamo questa cosa lanciamo le ads ma rispendiamo migliaia di euro e poi ci rendiamo conto che non funziona bene su quel dispositivo non funziona bene quel tipo di layout che mi ero immaginato oppure la call to action resta fuori dalla schermata di navigazione perché non ho messo bene non ho impostato bene per esempio i CSS non ho impostato bene altro no il prototipo serve proprio a quello ancora prima di andare a sviluppare quello che è la pagina prototipiamo detto anche altri termini noi dobbiamo disegnare la pagina prima di andarla a implementare in qualsiasi altro strumento e proviamo questo prototipo qui cosa abbiamo scritto abbiamo detto questa cosa anche qua vedete abbiamo cercato di prendere solo dei concetti che possono essere importanti per noi che facciamo design ma questo è secondo me importante per qualsiasi persona che lavora su una landing page e che spesso si fa questo errore rimuovi la navigazione da altre distrazioni se la landing page spesso la landing page sono ovviamente dei mondi a sé però spesso ci fanno all'interno di altri siti e noi abbiamo tante uscite ricordatevi che noi abbiamo una call to action unica che dovrebbe seguire un flusso e quindi se inizio a mettere anche per esempio perché mi sembra bello il chi siamo o il contatti o altre scappatoie che non sono legate a quelle dell'obiettivo principale in pratica distraggo ovviamente dal comportamento iniziale immaginate e quanto posso distrarre a quel punto ancora di più su un dispositivo questo è un concetto per le landing page per le sales page ancora di più non ovviamente per app siti internet portali ovviamente lì il discorso è completamente diverso però qua concentratevi sul vostro obiettivo e quindi tutto il resto è il rumore di fondo un altro elemento importante vero sempre nelle interfacce ma ancora di più ovviamente nelle landing page dove l'attenzione è sempre bassissima delle persone che navigano ma ricordiamoci che soprattutto anche nelle landing page cerchiamo di essere subito chiari e comunicativi del nostro messaggio above the fold che significa è prima questo è un termine che deriva dai giornali e i giornali venivano piegati in una con una certa vedete qui a fianco venivano piegati a metà allora che cosa si diceva quello che c'è intestata quindi il titolo del giornale e tutto quello che viene messo in alto viene letto sicuramente di più prima e di più di quello che c'è sotto la piega e questo è stato trasportato nel web cioè quello che io vedo appena entro sulla pagina sicuramente viene visto da molte più persone rispetto a qualche diciamo a scrollare e andare giù con la barra di scorrimento quindi è importante mettere il messaggio comunicativo il nostro obiettivo prima della piega prima di andare giù e il messaggio deve essere chiaro deve essere descrittivo e deve esserci tutto ben ben espresso qui ritorna il concetto del dispositivo quindi io devo andare a mettere tutto magari su un dispositivo mobile ma anche sul desk ci sono molte volte che vengono fatti questi errori facciamo questo header questa testata gigante a tutta tanta altezza ci metto un bel video magari non faccio neanche capire che può scorrere la pagina dalla landing page sotto io arrivo qui vedo un video grande magari c'è un testo non c'è neanche una call to action e io resto il video dico vabbè non mi interessa e vado via quindi cercate sempre di far capire innanzitutto che continua sotto il messaggio però mettere il messaggio ovviamente prima della piega quindi sotto la piega cosa andare a posizionare il messaggio come vedete sotto quindi la posizione del messaggio sicuramente in alto e anche le call to action quindi andare a posizionarlo in alto sulla call to action che si potrebbe fare un webinar solo sulla call to action ricordatevi che la call to action è quell'elemento di dire ok io vado e passo lo step successivo ok quindi ti lascio le mail compro faccio altro che cosa succede ci sono diverse teorie diciamo vabbè io la metto la metto in alto però in alto magari la persona non è calda non è convinta è ovviamente un traffico freddo magari allora io no la metto alla fine della pagina la metto in mezzo la metto così il discorso è che è vero che è un traffico freddo però potrebbe essere un traffico di ritorno potrebbe essere qualcuno invece che già è convinto dal video che ho visto in ads quindi la call to action è importante metterla sopra la piega in alto anche se non mi ci cliccano subito comunque vanno su e giù è importante avere questo punto di riferimento ancora di più si sta portando avanti una strategia è una struttura dove il link della call to action viene addirittura fixato durante lo scorrimento se avete presente l'apple store quando voi scaricate per esempio un applicativo o lo state comprando quando andate a scorrere vi da subito scarica ancora prima quindi vedete come ve lo mette sopra la piega no? titolo scarica poi c'è tutta una narrazione quando vado a scorrere magari ancora più sotto il pulsante viene fixato o sotto o sopra adesso poi cambiano continuamente però nei primi piani sull'app store c'è proprio questo effetto scorro e mi si aggancia il pulsante o sotto o sopra meglio sotto perché? perché ci posso arrivare più facilmente e lì vedete che magari io a metà pagina sono convinto boom e lo scarico o lo compro o quello che succede quindi fixarlo all'interno di una landing page è un consiglio sicuramente che vi invito a pensarci infatti c'è qualcuno che dice concordo fare un cta day sì è una tematica davvero importante e calda andiamo avanti vediamo allora quali sono gli strumenti per prototipare qui anche vi do un cenno anche qua se vi interessa non vi piacciono scrivetelo poi magari ci si può organizzare per andare a parlare di quelli che sono degli strumenti allora noi utilizziamo all'interno della nostra agenzia diversi strumenti per esempio qui per andare a disegnare e prototipare utilizziamo Figma però ecco per i prototipi un po' più avanzati utilizziamo Principle però esistono anche altri software come abbiamo citati altri che utilizziamo come Marvel InVision XD poi vi lasciamo comunque le slide e potete andare ad approfondire però ecco l'importante è che quando si va a prototipare e quando si va poi a disegnare e prototipare utilizzate degli strumenti che vi permettono ovviamente di raccogliere ovviamente questi dati andiamo a vedere l'ultima fase la fase di testing cioè ovvero testare se voi fate un prototipo e quindi andate a diciamo avete progettato avete prototipato la vostra landing page e prototipare si può fare anche un prototipo avanzato per esempio con Elementor si può anche prototipare chi è veloce l'unica diciamo regola del prototipo è che deve essere rapido deve essere veloce e deve essere ovviamente misurabile per appunto i test quindi che succede quando andiamo praticamente a prendere il prototipo lo andiamo a testare vedete che ritorna qui qui c'è scritto testa i contenuti quindi quando ecco questo è il testo corretto costruisci i test e misurali quando lavoriamo su un testing noi dobbiamo ovviamente costruirli e misurarli che significa costruirli e misurarli la vedete ci sono due concetti abbiamo gli abitest e le hitmap costruisci un test io non lancio un prototipo e poi ne lancio un altro un altro un altro solo perché sono carini no io lancio un prototipo e poi decido magari di testare una cosa e si va a testare cioè una famosa un famoso diciamo uso un famoso un famoso metodo è proprio l'abitesting un buon abitesting va a esaminare solo un elemento perché si esamina solo un elemento esempio il cambio di posizionamento della goal to action invece di metterlo in questo spazio vado a mettere in quest'altro spazio testo solo questo spostamento perché se vado a cambiare troppe cose non so cosa mi ha fatto cambiare il risultato quindi vado a testare e anche qui ci sono degli strumenti per poter vedere qual è il test che è andato meglio ovviamente dobbiamo definire qual è il successo di quel test ok quindi ovviamente in una goal to action cioè in una landing page gli abitest sono sempre sulla misurazione della conversione sono atterrate mille persone l'1% l'abbiamo convertita io faccio un cambio migliorato l'1.5 ho avuto un miglioramento quindi andate a definire l'abitest quindi con un solo elemento alla volta e definite che cosa state misurando in quel momento poi avevamo scritto heat map le heat map sono importanti sono sono praticamente quelle sicuramente l'avete viste sono delle mappe dove andate a misurare quanto tempo le persone restano col mouse su degli elementi e potete andare a misurare il movimento appunto del mouse che spesso è riconducibile agli occhi apriamo la parentesi oggi ci sono software direttamente online che ti permettono di traccare il movimento dell'occhio cioè tu accendi la webcam e in pratica dopo una fase iniziale di taratura della vista dell'occhio ti viene proposto il prototipo e il testing e la webcam misura tu dove hai lo sguardo in questa maniera abbiamo delle heatmap ancora più precise su dove stai guardando e dove si sofferma la vista degli utenti delle personas e questo è assolutamente interessante perché sappiamo loro cosa vedono e su cosa si soffermano magari ecco cambiamo il colore del pulsante da non so il sito è tutto quanto blu perché iniziale è blu e il sito è il pulsante è un blu scuro perché ci sembrava elegante lo cambiamo in rosso le persone vengono attratte magari da quel colore e facciamo una conversione maggiore quindi le heatmap esistono diverse come vi sto dicendo servono a capire il comportamento gli utenti testarle e capire quanto tempo restano magari con il mouse con la vista o addirittura click che è anche tanto importante assolutamente stavo leggendo un messaggio bisogna includere i termini di privacy e policy sì per utilizzare ovviamente le heatmap assolutamente sì esistono poi diversi strumenti esempio hotjar e fra gli strumenti più famosi per andare a fare queste heatmap e il tracking anche del mouse in tempo reale esistono appunto hotjar che se tu attivi ti vanno a registrare proprio il tuo movimento del mouse sul monitor personale non aggregato come le heatmap le heatmap prendono mille visite e ti vanno a creare questa mappa con sfumature che vanno dal rosso al verde e ti dice tu dove la maggior parte delle persone si soffermano quindi è un'indagine quantitativa addirittura abbiamo indagini qualitative quindi c'è proprio il tuo mouse mentre vai sul sito internet scrolli e vai a cliccare quindi seguire il singolo utente vediamo dopo questa questa parte cosa altro abbiamo abbiamo l'area dei feedback cioè i test di una di un'interfaccia di una landing si comportano non solo nella osservazione che qualcuno scrive ecco per privacy mette analytics se lo do per scontato noi andiamo a analizzare a traccare un po' come se siamo dietro la persona che sta navigando ma noi possiamo anche chiedere delle informazioni sono due modi per analizzare e testare quello che facciamo noi chiediamo con dei feedback e facciamo delle interviste somministriamo delle interviste e possiamo fare anche per esempio degli screen record proprio con delle persone cioè noi possiamo lanciare dei test in una cerchia ristretta fare anche un focus group che può essere all'interno della nostra agenzia della nostra società del nostro studio ma anche all'interno di amici però che siano in target che siano comunque simili alle persone lanciamo e chiediamo non solo feedback secondo delle interviste come si è trovato si è riuscito subito a capire che cosa si stava proponendo cosa si stava vendendo si è riuscito subito a trovare la goal to action dare dei feedback qualitativi in questo caso one to one con delle persone ti aiutano a capire qual è ecco l'emozione l'esperienza che ha provato il singolo utente fare invece delle indagini quantitative come abbiamo detto prima di analisi di dove si sofferma un altro quello che ci permette di capire un altro tipo di valore cioè per i grandi numeri il pulsante in quella posizione funziona di più allora l'ultima fase è infatti abbiamo parlato di 5 punti più 1 perché ecco l'ultima fase non è una vera e propria fase ma è una fase importante reiterare il tutto e cosa intendiamo per reiterare cioè ovvero ottimizzare qui trovate alcuni di voi sicuramente analogie nei concetti di marketing nei concetti comunque di design thinking perché il design thinking si basa proprio su questa parte qua io faccio tutta una serie di step poi non finisce non mi accontento io vado a testare ovviamente rilascio il prodotto poi continuo ad fare le analisi e vedo se mi sta funzionando mi sta convertendo ritorno e vado a reiterare quindi che significa l'andiamo a ottimizzare raccogliamo quello che sono i dati che ci arrivano poi in un in un in un secondo momento andiamo a prendere e capire quanto sono variati no? i miei dati rispetto ai cambiamenti di design e quindi si riparte da capo e si fa lo stesso processo quindi riprogettiamo eccetera eccetera quindi tutto questa struttura vedete è un metodo l'importante diciamo in questo webinar non è dare ecco l'esercizzino il compitino il puzzante rosso converte più del puzzante verde e cercare di darvi un metodo da applicare in qualsiasi mercato in qualsiasi settore in qualsiasi prodotto e landing altrimenti avremmo fatto ok come fare il generation come far acquistare un prodotto digitale un infoprodotto come far comprare un prodotto fisico per avermi dovuto trattare veramente tematiche specifiche invece in questa visione aerea parliamo di un metodo che potete applicare davvero dappertutto allora sicuramente ci saranno ringraziamo ancora Vosting e Ubenda adesso arriviamo nel punto caldo dove qui possiamo andare a riprendere delle domande che avete fatto lungo il percorso quindi adesso è il momento di sparare tutte le domande che avete su quello che avete visto ci riserviamo ecco una decina di minuti per andare a rispondere a queste a queste domande soprattutto se dalla regia quindi Mario e Mario abbiamo due persone di regia che si chiamano Mario potete spararle ok sì allora questa forse l'avevamo anche già selezionata è per usare la hitmap devi includere i termini dei termini di privacy ad hoc se non sbaglio assolutamente sì all'interno della vostra privacy policy dovete andare a citare quello che è l'utilizzo dello strumento quindi utilizzate ma anche per utilizzare Analytics dovete ovviamente andare a scrivere una privacy policy ad hoc dire che raccogliete quali dati raccogliete se avete delle delle forme come spesso hanno nel new page dovete dire io raccolgo il nome il cognome il numero di telefono le mail eccetera eccetera se utilizzate hot jar che permette di fare delle hitmap dovete dichiarare faccio tracciamento del mouse o del posizionamento o altro qui vi possono aiutare diversi strumenti come per esempio l'ubenda vi permette magari con un click di andare a inserire anche la privacy policy ad hoc ci sono altre domande ragazzi dalle regia se le volete passare perfetto un webinar solo sulle cta ok grazie Cristina sicuramente ecco poi i ragazzi diciamo dell'organizzazione volendo si potrebbe anche pensare a fare un webinar solo sulle sulle call to action non potremmo a quel punto scendere veramente molto nello specifico e nell'operativo farvi vedere migliaia centinaia di possibilità di soluzioni e di schermate come fare una call to action che converte sicuramente è anche diciamo più specifica una cosa che posso aggiungere sulle call to action Cristina è che quando pensate a un pulsante l'ho toccato prima nel concetto di affodance dovete immaginare che quell'elemento si possa cliccare dovete farlo sembrare un pulsante quindi non vi accontate magari solo di un testo e poi dite vabbè dai ma è un testo in bold la gente capisce che può cliccare oppure vado a fare boh non lo so un ovale oppure faccio una forma tutta quanta strana il pulsante deve sembrare un pulsante lo devo far capire senza andarci sopra quindi anche oppure dico io voglio essere super minimalista facciamo un rettangolo dentro ci mettiamo un testo magari sotto ho utilizzato sopra un'immagine un rettangolo per scrivere la diascalia e allora qual è il pulsante in quel caso ci viene in aiuto l'ombra ci viene in aiuto la matericità del prodotto e quindi tanti modi per essere ancora più importante vediamo se ci sono anche qualche altra domanda Giuseppe Piacente qualche tool pratico dipende Giuseppe quali ce ne sono un'infinità tool pratico dipende per che cosa se facciamo ecco magari scrivelo nei commenti pratico per cosa abbiamo parlato di tanti argomenti abbiamo anche citato qualche tool hot jar è uno di questi analytics è un altro abbiamo citato dei tool sia per la raccolta delle informazioni ma sia anche per 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 crearne quindi scrivi magari nello specifico che cosa si può usare un'idea su come posso convertire in un sito di medicina estetica ecco l'ideona per convertire su un sito di medicina estetica allora convertire cosa vuoi convertire cioè hai bisogno di fare cosa lead generation hai bisogno di email o vuoi convertire per per che cosa in particolare ricordo che in passato ho lavorato per un ho fatto proprio una landing per un un marchio di bellezza e per esempio ha fatto veramente un successone un un magnet reale cioè davamo dei campioncini che potevano essere inviati per posta e semplicemente andando a fare un opt in quindi nome cognome telefono email chiedevamo un po' più di dati perché dopo ricevevi questo campione è gratuito spedibile proprio per busta quindi era un impatto molto molto basso qui siamo riusciti davvero a convertire tantissimo tra l'altro landing page è andata a finire all'interno di un circuito di di portali di campioni gratuiti ed è stato invaso abbiamo messo ovviamente i vari recapcia proprio per non fare andare i bot ma è stato davvero un successone quindi potrebbe essere un'idea dare quello che può essere un campioncino però ecco anche qua un po' più specifica che cosa vuoi convertire puoi convertire alla pronotazione di un evento è una cosa far avere convertire in un email quindi in un lead o in un contatto è un'altra convertire nella vendita di un corso nella vendita di che cosa quindi ci sono diverse pratiche bravissimo una domanda questi me le spiazzano dalla regia quindi io non le neanche lette leggiamo in live quindi bravissimo una domanda siamo nel mercato del travel quindi un settore dove l'acquisto di un viaggio è un acquisto di diverse migliaia di euro e quindi ponderato è una decisione non immediata che filosofia si usa per queste landing page ecco c'è da distinguere bene no la strategia dalla tattica cioè noi possiamo pensare che con una landing page io ho creato tutta la strategia comunicativa è la strategia di vendita qui dobbiamo andare a lavorare con qualcosa che non sia magari solo una landing page ma c'è tutto un comparto strategico che bisogna mettere in atto quindi non solamente ads landing page e aspettiamo lì che convertiamo la vendita di un viaggio probabilmente lavorare con un progetto web più ampio come un sito internet che ti permette di avere più più lavoro orizzontale orizzontale sul cliente e riesci magari a fidelizzarlo riesci a lavorare più su questo concetto del trave quello che ti dico che qui andiamo un po' ecco più su una strategia di come creare ok un cliente non tanto come convertire perché quando ecco adesso non so che cosa intendi per l'acquisto di un viaggio di diverse milioni di euro cioè dipende si possono fare viaggi ovviamente che sono sotto il milioni di euro e quindi spostamenti magari più più locali dove l'acquisto è anche un po' più compulsivo e dei viaggi magari che sono un po' più a lungo termine dove bisogna lavorare magari anche con delle consulenze specifiche o con dei preventivi specifici e quindi devi curarti il cliente in un'altra maniera quindi è un gioco diverso questo qui quello che ti posso consigliare è che magari tu puoi iniziare a prendere il contatto con una landing page quindi file generation se sei interessato a una tematica ti interessano i viaggi in Asia l'avventura eccetera eccetera lasciaci il contatto creeremo un pacchetto ad hoc per le due esigenze per fare magari un minimo di un questionario che vai a identificare qual è il prodotto e lì parti visto che magari è un prodotto più custom parti con un'altra serie di email che possono essere automatizzate per continente e per altro quindi è un lavoro un po' più strutturato ma non impossibile si fanno però ecco non è che tu fai una landing compri il viaggio e è fatto quindi va lavorato diversamente allora ci sono altre domande forse intendeva tools per la creazione pratica delle landing esempio get response breezy unicord platform cosa puoi consigliare anche se ne esistono davvero un sacco allora vi dico cioè noi comunque in un lab lavorando ovviamente con cioè sendo un'agenzia strutturata e lavorando ovviamente con con diversi clienti noi andiamo a disegnare ad hoc come vi ho fatto vedere forse prima con uno strumento Figma proprio la parte di progettazione si chiama Figma lì permette di disegnare i progetti web un po' ecco cerco di utilizzare un software che chiaramente conosco tutti come Photoshop per l'heading delle foto Figma così come Sketch Adobe XD sono software che permettono di andare a progettare le landing page quindi noi utilizziamo questi tipi di strumenti un po' più diciamo professionali per la realizzazione invece lo sviluppo delle landing page senza passare per la parte del codice quindi del coding perché là ovviamente le landing page sono delle pagine web HTML che si progettano e si sviluppano con codice HTML CSS JavaScript eccetera eccetera se volete utilizzare degli strumenti senza codice lì vi possiamo consigliare ecco già Luca ne ha citati alcuni ma ci sono i vari Elementor che è un plugin che si installa su WordPress e va per la maggiore oppure noi abbiamo utilizzato in passato per alcuni progetti Webflow Webflow è uno strumento che ti permette senza utilizzare codice di andare a creare un po' più avanzato ne esistono davvero tante vediamo che è una fase di sviluppo di una landing page ovviamente vi invito a vedere prima tutta la fase metodologica poi la fase pratica dell'implementazione se volete sperimentare ne esistono davvero tanti qui penso che stiamo parlando di non andare a toccare la parte di codice alcuni chiedono sono tool a pagamento alcuni sì alcuni no dipende dal modello di business dipende ovviamente ci sono quasi sempre delle versioni free che ti permettono poi di fare dei piani a pagamento una cosa importante che volevo dirvi sicuramente legata alla live è che alla fine di tutta questa live vi invito ad andare su onlab.io il sito dell'agenzia il sito dello studio dove potete scaricare due modelli importanti per il nostro metodo uno di cui abbiamo toccato proprio nella fase iniziale che è lo user center design canvas o cdc e un altro che è il nuf che invece è un excel molto semplice un foglio di google molto semplice che vi permette di andare a analizzare quelle che sono diverse features che potete implementare all'interno della vostra della vostra landing page del vostro progetto e le andate a validare secondo dei parametri che verranno spiegati all'interno i parametri sono novità utilità e fattibilità quindi ve li diamo sicuramente all'interno della nostra pagina che li potete vedere allora questa è la fine del slide che parte con un ringraziamento io letto ci sono altre veramente altre domande non so se dalla regia ne sparate altre e arriviamo a una conclusione perché ho visto che siamo su l'oretta ecco domanda presa proprio bam verso la fine di Elisa ho pensato ad usare dei sottodomini del sito per creare delle landing page con keyword più localizzazione esempio fisioterapia milano punto sitocliente punto it non è veramente una domanda ho pensato di usare sottodomini perché ecco questa è la domanda adesso non so se vuoi una risposta cioè mi stai chiedendo se è corretto fare questo tipo di lavoro qua entrano delle tematiche che sono più che altro di SEO di posizionamento non tanto ecco di struttura di una di una landing page di usabilità ecco diciamo che non è sconsigliato sicuramente puoi andarlo a fare però ecco è una domanda un po' più struttata fisioterapia milano sitocliente punto it magari Elisa ci puoi magari essere un po' più precisa ecco puoi utilizzare dei sottodomini per fare delle landing page specifiche ovviamente magari il sito principale eh si si se non è troppo un casino ehm ok qua una domanda per ghosting ok allora ehm il sito per scaricare le dispense lo adoro si è il nostro sito adesso lì c'è solamente un timeform dove potete scaricare il tutto allora anche dalla regia non so se ci sono davvero altre domande siete stati davvero molto attivi perché nel frattempo sto scorrendo tutte tutti tutti diciamo tutti commenti domande più che altro l'abbiamo davvero risposto in generale con questo eh vi ringrazio siamo arrivati a un'ora e dieci di webinar quindi siamo lì sul pezzo davvero vi ringrazio ringrazio vuosting ci rivediamo vi rivedrete sicuramente altri webinar per adesso grazie ciao